In Italia è boom per il mercato dell'intelligenza artificiale. La crescita va di pari passo con i timori che questa tecnologia possa sostituire l'uomo sul lavoro e con le riflessioni sulla scarsezza di competenze tecniche. Nel 2023 il mercato dell'intelligenza artificiale ha segnato un più 52% raggiungendo il valore di 760 milioni di euro. Il 61% delle grandi imprese ha all'attivo almeno a livello di sperimentazione un progetto di intelligenza artificiale, mentre si scende al 18% tra le piccole e medie imprese. La gran parte degli investimenti riguarda soluzioni di analisi e interpretazione testi per ricerca semantica, classificazione, sintesi e spiegazione di documenti o agenti conversazionali tradizionali, mentre sono ancora limitati al 5% i progetti di intelligenza artificiale generativa. L'impatto dell'intelligenza artificiale porterebbe a una crescita per l'economia italiana di 239 miliardi di euro fino al 2030, uno dei colli di bottiglia rappresentato però dalle competenze. Il 54% delle imprese italiane dichiara che quelle più carenti nella propria organizzazione sono quelle di base e solo il 20% delle imprese italiane riesce facilmente ad assumere profili con le competenze digitali necessarie. La ricerca del Politecnico di Milano accende inoltre un faro su un argomento spinoso, l'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro. Calcola che da qui a 10 anni le nuove capacità delle macchine potrebbero svolgere il lavoro di 3,8 milioni di persone. La possibile automazione di lavori equivalenti appare quasi una necessità, ben il 77% degli italiani guarda con timore all'intelligenza artificiale, soprattutto in relazione ai possibili impatti sul mondo del lavoro. Tuttavia solo il 17% è fermamente contrario al suo ingresso nel mondo del lavoro.